Saranno solo 13 e il numero rischia di diminuire ulteriormente le navi da crociera che faranno scalo nel porto di Brindisi nella stagione estiva appena iniziata. La costa crociera ha infatti annullato nelle ultime ore la presenza della MSC Musica ad agosto cancellando tutte le cinque date previste. Proprio la MSC Musica è la nave che avrebbe dovuto effettuare il maggior numero di scali a Brindisi, 12 in tutto inaugurando la stagione il 3 agosto prossimo e c'è il rischio che anche le altre date vengano cancellate evidentemente per un numero di prenotazioni non sufficienti. Sono per il momento 115 invece le navi da crociera che dovrebbero approdare nel porto di Bari. I dati vengono aggiornati ora dopo ora dall'autorità del sistema portuale dell'Adriatico Meridionale che gestisce entrambi i porti e non sono escluse dunque altre disdette che renderebbero davvero impalpabile il numero degli arrivi sulle banchine del porto interno e su quella del terminal di Santa Pollinare. Confermato per ora invece l'arrivo dell'Aidamira previsto per il 3 agosto nel porto interno. La nave della compagnia tedesca Ida del gruppo Costa dovrebbe arrivare a Brindisi complessivamente per quattro volte mentre due toccate saranno effettuate dalla Berlin della compagnia Cruisis con sede a Malta ma gli scali dovranno essere confermati e a questo punto pare tutt'altro che scontato.